Buongiorno a tutti, sono Anna Caterina Binda, ho 16 anni e abito in provincia di Varese. Sono al pianoforte da quando ho 5 anni con la professoressa Paola del Negro e il maestro Roberto Plano, entrambi professori all'Indiana University Jacobs School of Music in Indiana negli Stati Uniti. Per me la musica è il mio modo per esprimere tutto ciò che penso e provo e mentre suono spero sempre di trasmettere al pubblico l'importanza di quest'arte per me. I brani che seguiranno sono la Suite Opera 14 di Bela Bartok e la Polonaise numero 2 in Mi Mangiori di Franz Liszt. Vorrei ringraziare infine l'Associazione Amici della Musica di Palermo per aver organizzato questa bellissima iniziativa per promuovere i giovani musicisti, anche in un periodo così difficile. Buon ascolto! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.